Putin, se non viene fermato, quello che succederà la prossima volta sarà un paese nato. Kaliningrad, bene. Trasnistria. Moldavia. Questo è un problema perché non conoscete la storia. Se voi leggeste tre libri di storia, non 300, io ho fatto finire di parlare a lei, lei fa finire di parlare a me. Se vogliamo avere un conflitto, è un confronto costruttivo. Ciao. Grazie per la visione!